Lo Spallanzani oramai da anni segue un percorso di grande importanza e di grande attivazione di servizi sul tema della prevenzione. I dati che noi abbiamo, che la ricerca scientifica ci dà, sono ovviamente di un progresso enorme rispetto al tema delle cure, ma è chiaro che il tema della prevenzione, della conoscenza, dei servizi facilitati come sono i percorsi che ha attivato questa struttura sono di fondamentale importanza per fare in modo che i cittadini si avvicinino quanto prima possibile al tema della ricerca e della prevenzione. Io sono qua oggi in rappresentanza della delega che il sindaco Qualtieri ha voluto darmi ed è quella delegata del sindaco nel territorio dell'ASL RM3 ed è estremamente importante coltivare da vicino il tema delle relazioni e della collaborazione. Per questo ringrazio molto la dottoressa Amatranga per avermi dato l'opportunità di essere qui questa mattina.